Case popolari sì alla nuova legge, accordo raggiunto tra maggioranza ed opposizione sui nuovi criteri di accesso agli alloggi ERP. Insediata la commissione d'inchiesta per la verifica della campagna vaccinale in Toscana, presidente l'ex sindaco di Monte Carlo Vittorio Fantozzi. La clinica di riabilitazione presentata all'attività della struttura di Terra Nuova Bracciolini in provincia di Arezzo, punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana meridionale. Buonasera e ben ritrovati a Monitor Consiglio. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato la nuova legge sui criteri di accesso alle case ERP, gli alloggi popolari. Il testo, dopo un lungo dibattito, è stato approvato con 23 voti favorevoli e 11 astenzioni, dopo aver trovato la sintesi in un emendamento, prima firmataria Elisa Montemagni della Lega e sottoscritto anche dal presidente del gruppo del Partito Democratico Vincenzo Ceccarelli. La nuova regola prevede l'obbligo per i cittadini che non autocertificano la propria residenza fiscale in Italia di presentare documentazione reddituale e patrimoniale del Paese in cui hanno la residenza fiscale, ad esclusione di coloro che sono in possesso dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Sentiamo le interviste. Intanto la Regione Toscana è dotata di una legge che è una legge recente e che è una buona legge e che andremo fra l'altro anche a correggere recependo quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per renderla meglio applicabile e per evitare che ci siano ricorsi che intralcerebbero e ritarderebbero la redazione delle graduatorie da parte dei Comuni e questo andrebbe soprattutto ad essere dannoso nei confronti dei cittadini, tutti i cittadini che in Toscana hanno il diritto e i requisiti per poter chiedere una Casa Popolare. Per il resto ci sarà la possibilità di fare investimenti importanti sul patrimonio che la Toscana ha, sono circa 50 mila alloggi. Già nella passata legislatura al sistema erano stati dati e investiti oltre 200 milioni, ora abbiamo già disponibili 90 milioni per quanto riguarda l'efficientamento e quindi per quanto riguarda l'intervento anche di ristrutturazione degli alloggi esistenti e nelle linee strategiche per l'utilizzo dei fondi europei e quelli del PNRR noi avevamo già previsto la possibilità, anzi data l'indicazione di utilizzare questi fondi. Quindi la cosa più importante che è quella di avere disponibilità di alloggi troverà nei prossimi mesi e nei prossimi anni la possibilità di concretizzarsi perché risorse importanti sono già disponibili o saranno comunque accessibili. Per il resto occorre ovviamente una modalità di gestione che sia attenta a controllare che nelle case popolari ci sia chi ha i requisiti per entrarci, chi ha mantenuto i requisiti per starci, quindi lotta furbetti e le case veramente a chi ne ha bisogno. Ad oggi possiamo dire che Fratelli d'Italia ha fatto un lavoro importante in commissione all'inizio dell'estate per modificare la legge che è uscita dalla giunta regionale introducendo come criterio premiale la storicità della residenza e quindi la legge che è uscita dalla commissione prevede un punto per tre anni di residenza anziché zero, due punti anziché zero per cinque anni di residenza, tre punti anziché due per dieci anni di residenza a salire quindici anni eccetera eccetera. Quindi abbiamo voluto e in commissione siamo riusciti ad introdurre appunto il criterio della premialità della storicità della residenza nell'assegnazione degli alloggi popolari. Quindi a nostro giudizio la legge che è uscita dalla commissione nello scorso mese di luglio è una legge molto migliore rispetto a quella che era entrata in commissione e per questo motivo in questo modo ci siamo approcciati al lavoro della commissione. Cercheremo di migliorarla ulteriormente il lavoro di aula, in particolar modo riteniamo che si possa agevolare un rapporto tra gli uffici dei vari comuni e i catasti degli stati esteri per capire se i richiedenti, se coloro che fanno domanda dell'alloggio popolare e hanno proprietà all'estero appunto siano o no diciamo legittimati a chiedere l'alloggio popolare in Toscana, in particolar modo nelle città toscane. Il motivo è molto chiaro e semplice. C'è stato un intervento della Corte Costituzionale sulla legge della Lombardia che prevede l'identico requisito di accesso ai bandi e alle case popolari cioè la residenza per almeno cinque anni e è stato dichiarato illegittimo. Se noi non modifichiamo la norma toscana tutti i bandi che i comuni faranno e stanno facendo in questo periodo, faranno nelle prossime settimane, si espongono all'annullamento. Quindi qualunque soggetto che ha partecipato può far ricorso, chiedere al giudice la valutazione della legittimità costituzionale. In quel caso, siccome gli effetti delle sentenze poi sono dall'origine, dal momento in cui la legge è stata approvata, annullerebbero tutti i bandi che sono stati fatti. Lanci, tutti i comuni della Toscana ci hanno chiesto con forza di farlo velocemente. Noi eravamo pronti per luglio, c'è stato alcune istanze richieste insomma anche dell'opposizione, però il motivo è questo, è quello di permettere ai comuni di assegnare velocemente le case popolari che sono disponibili. Una legge che a mio avviso andava già bene per quel lavoro straordinario che abbiamo fatto nella passata legislatura, un lavoro fatto di un anno e mezzo di concertazione, si è voluto migliorare un punto rispetto a una presunta illegittimità costituzionale. Noi abbiamo presentato il nostro emendamento che poi di fatto è stato accolto perché dare un punteggio aggiuntivo a tutte quelle persone che da più anni stanno in Toscana, che lavorano in Toscana, che comunque producono reddito nella nostra regione, secondo noi è positivo, quindi è corretto che possano andare avanti in gradatoria di una legge che già con le riforme che avevamo fatto consente finalmente anche alla classe media di iniziare a sognare l'edilizia residenziale pubblica che non è più lo concetto di casa popolare come l'ha visto una volta, ma inizia ad essere l'opportunità anche per la classe media che fatica anche ad andare in affitto, di poter partecipare e giocarsi l'assegnazione di un'edilizia pubblica. Innanzitutto siamo molto dispiaciuti che per una serie di ostruzionismi fatte dalla maggioranza e soprattutto dalla Lega, si arrivi così tardi alla promulgazione di questa legge che i comuni stanno aspettando per fare i bandi e dare finalmente casa a tantissime persone che l'aspettano. Queste persone non meritavano questo ritardo. Siamo assolutamente d'accordo nell'abolizione di quei cinque anni che sono stati un indice di incostituzionalità per la legge Lombarda che noi abbiamo sbagliato e ripetuto, quindi bene che venga cancellato. Siamo meno d'accordo invece con le premialità per quelli che risiedono da più mesi in Toscana come è stato inserito dall'emendamento, però non è così penalizzante come potrebbe sembrare. Quindi ci auguriamo che questa legge venga varata presto, ma c'è da dire che la legge sull'edilizia popolare deve essere ancora cambiata e soprattutto bisogna investire di più per rendere abitabili e per rendere degne di una famiglia tutte quelle case, quegli alloggi che versano in condizioni disastrose, soprattutto perché è incredibile il fatto che in Toscana ci siano così tanti immobili sfitti, anche case popolari sfitte senza abitanti e ancora così tante famiglie che non ce l'hanno. Voltiamo pagina, parliamo di sanità. Si è insediata a Palazzo del Pegaso la commissione d'inchiesta che dovrà verificare il corretto svolgimento delle misure messe in atto dal sistema sanitario regionale per contrastare la pandemia da Covid-19 e in particolare sulla campagna vaccinale in Toscana. È stato eletto presidente della commissione Vittorio Fantozzi di Fratelli d'Italia, ex sindaco di Monte Carlo, vicepresidente Federica Fratoni del PD, vicepresidente, vicepresidente, scusate, segretario Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle. Anche in questo caso sentiamo le interviste. Sicuramente non circoscriveremo la nostra attività su quello che è la campagna vaccinale ma ci occuperemo a tutto tondo della gestione della pandemia. Sarà quindi possibile attraverso il lavoro di questa commissione ricostruire i passaggi più critici o quelli che sono rimasti ancora senza una risposta verso la comunità toscana che ci hanno interessato negli ultimi due anni. Questa in due direzioni. Da un lato per fare pienamente luce e trasparenza su quelli che comunque sono stati i passaggi di ordine amministrativo e dall'altra parte per sostanzialmente evitare che in futuro anche attraverso una ricostruzione diciamo in attività costruttiva di questa commissione si possano impedire e verificarsi di situazioni come quelle che abbiamo vissuto. Io credo che sia per i tempi che per le modalità questa commissione in realtà potrebbe essere efficacemente riassunta nel lavoro che la terza commissione sanità sta conducendo da tempo. Noi siamo mesi che audiamo l'assessore tutte le settimane che ci viene a riferire sull'andamento della campagna vaccinale e tutti i commissari hanno modo di interloquire con lui e con tutti i tecnici dell'assessorato. Ovviamente non abbiamo niente da nascondere, siamo assolutamente disponibili ad approfondire tutti gli aspetti sui quali le forze dell'opposizione nutrono ancora dubbi. Io credo che i numeri parlino chiaro rispetto all'efficacia della campagna vaccinale in Toscana e quindi gli argomenti ci sono tutti. La nostra disponibilità è chiaramente quella, un confronto pur che sia serio nel merito e delinei secondo me oltre ai dubbi anche gli ottimi risultati che la regione ha conseguito. Secondo noi questa commissione ha un compito molto importante, non solo quello di far luce su quello che è accaduto durante la gestione della pandemia, tutti siamo al corrente che alcune categorie hanno avuto un accesso privilegiato ai vaccini, ma anche quello che è stata tutta la gestione dei dispositivi di sicurezza, delle risorse su come e dove sono state stanziate e non ultimo anche il famoso piano pandemico che a tutt'oggi a noi, dietro richiesta di accesso agli atti e interrogazioni, non risulta pervenuto. Quindi avrà un grande compito questa commissione, non solo riguardo ai vaccini, ma un po' a tutto il mondo della sanità perché è notizia di oggi che alcuni medici del pronto soccorso si sono dimessi per le condizioni di lavoro massacranti. Ecco, io credo che la commissione debba svolgere un ruolo investigativo piuttosto pesante perché ci sono tante criticità su questa gestione della pandemia e la situazione del pronto soccorso è un'evidente conseguenza. Nasce fuori tempo la commissione di inchiesta? Assolutamente sì, io ho poi uno strumento che le opposizioni hanno a disposizione, ma mi pare che sia assolutamente fuori tempo. Occuparsi del periodo di vaccinazione dell'anno scorso mi pare sia assolutamente fuori tempo. Tra l'altro voglio dire, gli sforzi e l'impegno dell'istituzione, questo fa e farà la terza commissione, è garantire le misure sanitarie che di qui avanti dovremmo continuare ad adottare. Si è inserita la commissione di inchiesta sui vaccini, chiesta addirittura cinque mesi fa, lei non ha partecipato? Io non partecipo, Italia Viva non partecipa, abbiamo scelto di stare fuori dalla commissione di inchiesta perché non è il momento e non è opportuno, è fuori luogo, è fuori tempo tutto, fuori tempo massimo, le cose si fanno quando servono. Noi abbiamo portato i primi a fare le critiche quando la vaccinazione non funzionava, devo dire però onestamente che ogni richiesta, ogni proposta, ogni modifica che io ho avanzato è stata accolta, devo dire la verità, lo abbiamo fatto negli hub, nel cambiare il modo, nel cambiare e definire le priorità, nelle fasce, nella scuola, in tante questioni che noi abbiamo posto siamo stati ascoltati, quindi era quello il momento in cui avanzare le critiche, siamo costruttivi, noi siamo a favore del nostro Presidente Gianni, siamo a favore di tutti coloro che poi da mesi, direi da anni, stanno dentro gli hub di vaccinazione, oggi pensare che quelle persone debbano essere indagate dalla politica che sta seduta nelle sedie, secondo me è assurdo, noi siamo a favore dei medici, degli infermieri, degli operatori sanitari che poi tutti i giorni a fare vaccini ci vanno, a curare le persone ci vanno e oggi sentirsi indagati dalla politica credo che sia scorretto, è il motivo per il quale Italia Viva non partecipa alla commissione di inchiesta in ambito regionale perché poi le cose alla fine si sono fatte, sono state fatte bene e poi alla fine oggi i vaccini ci sono, è il motivo per cui la nostra è una scelta politica. E terminiamo ancora con la sanità, a Palazzo del Pegaso si è svolta una conferenza stampa per presentare l'attività della clinica di riabilitazione toscana di Terra Nuova, Bracciolini in provincia di Arezzo, punto di riferimento per le attività di riabilitazione funzionale di tutta la Toscana Meridionale. In pochi anni la clinica è diventata non solo parte integrante del sistema sanitario regionale ma anche del sistema di ricerca nazionale nel settore. Allora, dentro questo centro di eccellenza si svolgono diverse attività di ricerca in ambito della riabilitazione, quindi c'è la volontà di sperimentare nuove metodiche di riabilitazione che portano ai pazienti migliori cure e percorsi più efficaci. Il messaggio che noi vogliamo lanciare è che l'attività che viene svolta presso il centro è un'attività di tipo traslazionale, quindi essenzialmente orientata a produrre dei risultati che siano in grado poi di migliorare i percorsi di cura dei pazienti. Per questo motivo utilizziamo degli strumenti innovativi che sono finalizzati e ad individuare nuovi metodi diagnostici e a sviluppare nuovi training riabilitativi che siano specificamente indirizzati verso le difficoltà che un paziente può presentare in seguito ad una lesione cerebrale acquisita. Ci tengo a dire che la professionalità e la collaborazione è proprio il nucleo su cui si fonda la nostra attività e questo sempre con l'obiettivo di migliorare le prospettive terapeutiche dei nostri pazienti e da questo punto di vista la ricerca costituisce un potente veicolo. Ciò appunto è in considerazione del fatto che fare ricerca migliora la qualità dell'assistenza che viene offerta al paziente perché costringe ad un confronto continuo anche con le altre strutture che a livello internazionale operano in ambito riabilitativo e con le quali abbiamo stabilito delle collaborazioni nei nostri protocolli di studio. È tutto per l'appuntamento di questa settimana, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie.